Ciao a tutti amici, sono Tony di Silvestro Ecco il nostro secondo tutorial Oggi vi spiegheremo come si fa ad invitare tutti i vostri amici ad un evento Facebook con un solo clic anziché ogni volta selezionare uno per uno tutti gli amici e quindi diventa cosa antipatica per chi già supera i 5, 600, 2000, 3000 amici come me o come chi si avvicina ai miei numeri o anche li supera Quindi la cosa è molto semplice Aprite Google Chrome e cliccate col menu in alto a destra esattamente qui e si aprirà il menu di Google Chrome Passate col mouse adesso dove c'è la scritta strumenti esattamente in questa parte Cliccando qui, passando col mouse si aprirà un'altra finestrella praticamente dove compariranno altri sottomenu Basterà cliccare su estensioni e si aprirà un'altra pagina di Google All'interno di questa pagina ci saranno delle voci Basterà cliccare su prova altre estensioni e vedrete che si aprirà un'altra pagina ancora sempre di Google, chiaramente Google Chrome e dove in alto a sinistra in questo momento praticamente la troverete qui Basterà cliccarci sopra e scrivere Invite, proprio scritto così Invite All Scrivendo Invite All si apriranno una serie di risultati Vi compariranno una serie di risultati Tra cui un rico dove ci sarà scritto Facebook Invite All Esattamente cliccando su gratis C'è una scritta con gratis Questa qui, vedete questa proprio qui Cliccandoci sopra si installerà in automatico questa estensione Ora potrete chiudere Google, riaprirlo, andare su Facebook, creare un evento Fare Invita Amici e troverete in alto a destra questo omino qui, questo che vedete proprio qui Quindi basta fare cosa? Scendete, scorrete tutti i vostri contatti Aspettate che si aprano le fotografie, quindi le immagini di tutti i contatti E appena si apriranno tutti quanti potrete cliccare sull'omino che vi dicevo prima E attendere qualche secondo Vedrete che all'improvviso saranno tutti cliccati Quindi un solo clic per invitare tutti Basterà cliccare su Invita e il gioco è fatto Grazie a tutti Se avete domande o curiosità sul web o sui social network Fatele pure Noi siamo un team di esperti in comunicazione e in social network Quindi potremo rispondere tranquillamente a tutte le vostre domande Aspetto i vostri commenti sotto il video Un mi piace, un condividi Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti da Rassegna Metropolitana Ah, iscrivetevi al nostro canale Ciao a tutti